Un totem interattivo per evitare le coda agli sportelli dell'anagrafe e presto avere l'accessibilità ai servizi 24 ore su 24. Il primo è stato inaugurato dal sindaco Piero Fassino all'interno dell'anagrafe centrale. A giorni ne verranno installati altri 10 in altri luoghi strategici della città per arrivare nel corso dei prossimi mesi a coprire l'intero territorio di Torino. I totem realizzati dal CSI, Consorzio Servizi Informativi Piemonte, e del prezzo medio di 2.500 euro l'uno, sono dei veri uffici operativi interattivi che consentono, grazie anche all'ausilio di un operatore in voce, di avere subito i certificati anagrafici di Stato civile, compresi i cambi di residenza, le autocertificazioni, di prenotare gli appuntamenti con gli uffici comunali e anche di pagare le multe. In ragione tale che un cittadino possa fare un certificato in qualsiasi ora del giorno, vicino a casa, senza fare code, con un modo assolutamente semplice e facile, perché basta digitare la propria carta d'identità o il proprio codice fiscale per poter avviare la procedura, è un modo per rendere tutto più facile alla vita quotidiana della gente, non più code, non più prendere le ferie per andare a fare un certificato, non più lungaggini, facile e rapida accessibilità ai documenti di cui una famiglia, una persona ha bisogno. Direi che grazie alla città di Torino che si conferma all'avanguardia, all'ungimirante in questi servizi, questo sportello, questo totem interattivo è una realizzazione importante ed è il primo passo di una serie di azioni che la città sta dispiegando. Grande vantaggio per le persone poter evitare finalmente le code agli sportelli, fare in modo automatico e in self-service le proprie pratiche, volendo con l'aiuto comunque di un teleoperatore, quindi di un operatore collegato in video e in voce, che assiste passo passo anche quegli utenti che magari hanno meno dimestichezza di utilizzare, di utilizzo della tecnologia.